il momento dello shop andiamo in alto in alto vediamo cosa è uscito ora abbiamo iron man e i griffin con soltanto il pollo gigante 2000 vi bacchi il bundle 1500 la skin 800 picconi 500 l'emote del sacco poi abbiamo ghost rider andate per le wolverine spiderman 0 marie jane watson arma x ancora i piccioni e poi abbiamo un nuovo bundle leader della squadra gommosa 1500 i bacchi quindi pochissimo tutto il bundle 1.2 la skin che ha un sacco di stili che poi in realtà si cambia colore della parte superiore e della parte inferiore si può diciamo colorare nel doppio doppio modo la skin ok è praticamente una caramella gommosa questa cosa penso per lo zainetto soltanto un colore si può cambiare però ci sta come come idea e invece 500 il piccone che fa questo rumore qua non è carino come come il rumore poi abbiamo la wrap doppio gommoso 300 vbac come questa non si può non si può cambiare colore raga cimici 1200 vbac poi abbiamo contrabbandiera 1200 vbac anche per lei e 9 piccone non ci interessa la sorina 1400 vbac con i coltellacci dentro al mondo poi abbiamo l'in guardiana 1700 il mandor 1200 la skin 800 il piccone 300 la wrap vediamo un attimino l'in guardiana non è male ci può stare ancora i soldatini ancora il bundle che si chiamava orgoglio prismatico e la strada dei campioni che è sempre la stessa di skin fncs che sono sempre le stesse due le tracce già tutto il resto penso che sia al solito se non c'è niente di nuovo allora ci sono qui un bel like ci vediamo il live alle 3 e mezza raga non lo so se la mattina ci sarà live un impegno ciò